La notte di Capodanno un grave episodio di violenza si è verificato all'interno della casa circondariale di Avellino. La notizia arriva dal segretario regionale del SAP Emilio Fattorello. Una lite tra detenuti ha rischiato di trasformarsi in tragedia. I fatti si sono verificati nel reparto detentivo dell'alta sicurezza. Qualche minuto dopo il brindisi per il nuovo anno è scoppiata una violenta lite tra due detenuti calabresi, compagni di Cella. Il provvidenziale intervento del personale di polizia penitenziaria ha evitato il peggio. I poliziotti sono riusciti a dividere i due. Per uno di essi si è reso necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Il detenuto per la gravità delle lesioni riportate e delle fratture è rimasto per tutta la notte in ospedale per poi essere dimesso con una prognosi di 30 giorni. Sull'accaduto è intervenuto anche Donato Capece, segretario generale del SAP. Così non si può andare più avanti ma intanto non vediamo azioni decisive da parte del Ministero per tutelare gli agenti di polizia penitenziaria come ad esempio la realizzazione di una camera di sicurezza presso gli ospedali ed ogni altra iniziativa mirata ad evitare aggressione ai danni del personale in servizio che invece si verificano quotidianamente. L'amministrazione penitenziaria nonostante i richiami di Bruxelles non ha migliorato le condizioni di vivibilità nelle celle perché ad esempio il numero dei detenuti che lavorano irrisorio rispetto ai presenti, quasi tutti alle dipendenze del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, i lavori di pulizia o comunque interni al carcere per poche ore a settimana.